Il numero pasquale di Vita Trentina è un'edizione speciale per tradizione. Quest'anno naturalmente ancora di più in questa Pasqua inattesa, inaspettata, come la tempesta che ci ha trovato tutti più fragili, più impotenti, ma anche più necessari gli uni per gli altri, più importanti. E su queste immagini di Papa Francesco, venerdì scorso nella piazza San Pietro Vuota, che si sofferma l'attenzione di 15 autori ai quali abbiamo chiesto un contributo originale per questo numero pasquale. E anche l'editoriale di Giorgio Franceschini insiste su questa dimensione della tempesta. Ispira anche l'opera di otto artisti alle quali abbiamo chiesto un contributo speciale. Tre vengono da Milano, Brescia e Bergamo, le zone più colpite dall'epidemia. E poi lo sguardo internazionale, le risposte creative che le comunità nelle valli stanno mettendo in campo. E poi una storia di uscita dal tunnel della malattia, quella di Giorgio Franceschi, manager dell'ISA, che ha trascorso 12 giorni nel reparto dell'ospedale di Rovereto. Questo nel numero di Pasqua di Vita Trentina. Da parte mia e di tutta la redazione, a voi tutti tanti cari auguri. Grazie a tutti.